Hector, gli appunti li hai presi? Mi hai portato tutto? Ah, ok, arrivano i nostri, sì, 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 perfetto. Ma quelli del gatto alla volta ci sono? Ah, ma ecco, ecco, che data, te la ricordi la data? Tra un po', partiamo con la nuova stagione, il 10 di ottobre, quindi mercoledì prossimo, venturo, mi raccomando, tutti sintonizzati su www.frequenzaappennino.com per la nuova edizione, la nuova stagione, la quarta, Hector, la quarta, il quarto anno insieme, che arrivano i nostri, mentre mercoledì 17 ottobre partirà la nuova stagione, la seconda in questo caso, del gatto e la volpe. Però il gatto e la volpe vai in oltre le settimane? No, quest'anno abbiamo fatto un piccolo cambiamento, soltanto due volte al mese, quindi un appuntamento quindicinale. Una ricetta? Esattamente, vi aspettiamo, eh, non mancate che c'è notte con il teatro e il cinturino. Vediamo a cercare a casa, qui tu? Il gatto e la volpe, una volpe. Un esoppo, quell'altro è orvo. Fate voi, magari. E gli spettatori, cincime, cinciane, si levano i midi e sbottono le mani. Aè!